Ritengo che fare il giornalista sia un privilegio, ma che farlo bene sia anche un obbligo. Ti racconto apposta una storia che ti disseti e questo diventa controgiornalismo, visto che le buone notizie non sono contemplate come notizie. Parole queste di Giorgio Torelli. Oggi presentiamo un libro che raccoglie le confidenze riservate di Giorgio Torelli, classe 1928, storico collaboratore del giornale Indro Montanelli e di tante altre prestigiose testate italiane, tra cui la Gazzetta di Parma. A firmare questo libro ritroviamo con grande piacere Don Samuele Pinna. Buongiorno, ben trovato Don Samuele. Buongiorno e grazie per l'invito. Giorgio Torelli, un cacciatore di buone nuove. Lo hai conosciuto per caso Don Samuele o è stata una dioincidenza? Possiamo dire che è stata proprio una dioincidenza, perché ci sono stati due fatti collegati che mi hanno permesso appunto di conoscere Giorgio. Il primo è stato quello che ho trovato in parrocchia, tra gli scaffali, abbandonato un libro proprio di Giorgio Torelli, che io già conoscevo come giornalista, anche se non così in maniera approfondita, che si intitolava, che si intitola La pazienza di Dio. Ho iniziato a leggerlo e ho trovato un libro stupendo che consiglio a tutti. Nello stesso periodo, poi nella mia parrocchia, confessavo un ragazzo che si chiama Michele. E un giorno in confessione, dopo che l'ho confessato due, tre volte, e quindi si è instaurato un rapporto, gli ho citato una frase del libro di Giorgio Torelli. Ed è stato bellissimo perché gli ho detto, ma tu conosci questo giornalista, questo scrittore? E lui mi ha detto, è mio papà. E allora da lì gli ho detto, ma devi farmelo assolutamente conoscere. L'ho conosciuto, è iniziata una profonda amicizia che è durata fino alla fine della sua vita. Torelli è stato un giornalista per 60 anni perché raccontava, Don Samuele, le notizie un po' a modo suo, potremmo dire. Le raccontava a modo suo proprio perché andava a cercare le buone notizie. Non si fermava mai sulle notizie di cronaca, magari puriginose, magari solo per qualche giorno, ma invece andava a cercare quelle che erano buone notizie. E lui diceva, le buone notizie sono come i funghi, non hanno il campanellino, bisogna andarla a cercare. Quindi lui ha girato il mondo, ecco qui qualche immagine, proprio ricercando le buone notizie. E questo era giornalismo a modo suo, come abbiamo ascoltato all'inizio la frase di Giorgio Torelli, il pensiero di Giorgio Torelli era dare un po' il respiro ai lettori. Ci sono tante cose che non hanno nel mondo, ma ci sono anche tante cose belle. Lui voleva proporre ai suoi lettori cose belle, cose che potessero aiutare a respirare un po' nella fatica del quotidiano. Stiamo vedendo delle immagini, ti ringraziamo perché, come dire, sei stato tu a fornirci queste foto, potremmo dire, dall'archivio di Giorgio Torelli, che ha conosciuto e intervistato numerosi personaggi del mondo del cinema, della cultura e dello sport. Ci racconti qualche aneddoto legato a questo? Allora, io con lui facevo un gioco, che era il toto interviste. Mettevo i personaggi che io conoscevo e chiedevo a lui se li aveva intervistati. E lui immancabilmente mi diceva di sì. Da Aldo Fabrizio a Fernandella, a Giovanni Paolo II, a Benedetto XVI, a Walt Disney, a Gregory Peck, che in qualsiasi personaggio lui mi diceva sì, l'ho intervistato. Un aneddoto che mi ha sempre colpito è come lui faceva le interviste, nel senso che andava a ricercare l'umano. Anche qui, la prima parte della sua vita lavorativa, per i grandi rotocalchi, le grandi riviste, andava a intervistare personaggi famosi. Ma non lo faceva come gli altri. Cercava anche qui il bello dell'umano presente in ognuno di noi. E allora ho in mente questo aneddoto con Platini. Lui fece un paginone e in questo paginone non usò mai la parola calcio. Tanto è vero che Platini lo chiamò e gli disse, Lei ha capito di me molto più di tanti che mi seguono e seguono la mia carriera anche nel mondo del calcio. Per dire lui com'era. Andava a cercare il buono presente nelle persone che incontrava e che voleva appunto conoscere. Potremmo dire con le parole di Papa Francesco che Torelli ha indossato le scarpe, le ha consumato le suole. Più volte Papa Francesco ha esortato i comunicatori, i giornalisti, insomma, a consumare le suole delle scarpe per andare in giro a raccontare, a raccogliere quanto di buono c'è. Se c'è una figura che magari, Don Samuele, correggimi se sbaglio, che incarna questo tipo di ideale, potremmo chiamarlo così, che Papa Francesco propone a chi si occupa di comunicazione, ecco Torelli rispecchia in pieno queste caratteristiche. Assolutamente. Ha girato il mondo proprio in cerca di personaggi che potessero testimoniare qualcosa di bello. Perché dopo, diciamo, i personaggi famosi, ha avuto la fortuna dai suoi direttori di poter andare invece lui dove desiderasse. E ha sempre ricercato personaggi che potevano insegnare qualcosa di buono. E lo faceva in maniera bellissima, nel senso che lui andava dal direttore e diceva vorrei andare in Centrafica perché so che c'è un missionario che sta facendo del bene. E il direttore gli diceva ma lo conosci? No, ma sicuramente ci sarà. E quindi prendeva e partiva in anni in cui viaggiare non era proprio così agevole. Tante volte ha rischiato addirittura la vita. Mi raccontava in diversi viaggi dove appunto era tutto un po' la fortuna. Però era questa la sua spinta, quello di andare a capire perché ci fossero persone che spendevano la loro vita per il bene degli altri. E ovviamente tutto questo è stato toccato anche dall'insegnamento cristiano, dalla sua partecipazione cattolica. Quindi vedeva nel nostro mondo, nel mondo cristiano, un punto di riferimento in cui la testimonianza poteva essere anche scritta in maniera efficace, in maniera forte. E quindi è proprio il desiderio di cercare notizie buone e dire è possibile fare il bene anche oggi. E quindi Don Samuele questo suo cercare il bene, raccontarlo in qualche modo, ha cresciuto la sua fede? Ha cresciuto la sua fede sicuramente, di più era il suo modo per esprimerla. Nel mio libro non ci sarà mai una definizione di qualcosa. Nel momento in cui anche stringevo la domanda, anche nei colloqui ovviamente dove io non ho riportato le cose, ma nel momento in cui io stringevo la domanda su anche dei concetti eccetera, lui non mi rispondeva mai in maniera teorica. Mi portava un esempio di qualcuno che ha incontrato, che ha vissuto in un certo modo e vivendo in questo modo ha lasciato un grande esempio, una grande testimonianza. E allora questo mi ha colpito. Lui in fondo, credo, è un po' me l'ha confidato, ha fatto catechesi in questo modo, nel senso che non si è messo a fare la teoria, ma ci ha fatto vedere che è possibile vivere come santi, come apostoli, come martiri, come confessori della fede. Lui diceva ci sono ancora, ci sono ancora queste persone, bisogna trovarle, bisogna incontrarle, bisogna ascoltarle e farsi contagiare. Ecco, lui si faceva contagiare da queste persone bellissime, magari al mondo sconosciute, che però in qualche modo non gli hanno lasciato un segno profondo. E il suo compito, che si sentiva come giornalista, era dire non è solo per me, io cerco di diffonderlo a tutte le persone che posso incontrare. E tu, Don Samuele, per chiudere, che cosa hai imparato da Giorgio Torelli? Allora, una cosa seria, anzi parto con una cosa meno seria. Ho imparato il giornalismo, nel senso che io mi sento laureato in giornalismo grazie a Giorgio Torelli che mi ha laureato sul campo, nel senso che Giorgio mi ha spiegato come si fa un'intervista. Lui dice, un'intervista deve durare tre ore, perché la prima ora ti dicono, l'intervistato ti dice quello che dice a tutti. Nella seconda ora incomincia a sbilanciarsi, a dire qualcosa di più suo, nella terza ora è in mano all'intervistatore. A quel punto si può confidare. E vi faceva l'esempio di un cane di razza, no? Il cane di razza prima bisogna lasciarlo correre, bisogna lasciarlo andare, bisogna lasciarlo sfogare. Poi piano piano lo si avvicina fin quando si addomestica. Ecco, questa era, secondo lui, come si fa un'intervista. Per esempio, Riccardo Muti, quando lui gli ha chiesto un'intervista, gli ha detto, ho bisogno di almeno tre ore. E lui gli ha detto, no, no, ho troppi impegni, non è possibile che io spenda tre ore per un'intervista. Poi alla fine ci ha ripensato e accettato. E anche qui Giorgio mi ha raccontato che, dopo essere uscito il pezzo, Riccardo Muti l'ha richiamato, dicendo, lei ha capito fino in fondo la mia umanità. E allora Giorgio, quando mi spiegava queste cose, alla fine mi ha detto, beh, è un po' quello che hai fatto tu con me. E quindi per me questa rimane la medaglia al giornalismo. E cosa ho imparato da Giorgio? Ecco, concludo invece con una cosa magari un po' un pochettino più seria. Ho imparato a conoscere alcuni personaggi davvero grandi. Tra tutti, quello che mi ha colpito di più è stato Marcello Cagna, poi magari un giorno ne parleremo. Marcello Cagna, l'ultimo mio libro, parla proprio di Marcello Cagna, e a ogni paragrafo mio c'è un pezzo di Giorgio Torelli. Quindi possiamo dire che l'ultimo scritto di Giorgio Torelli appare nel mio libro, nel senso che mi ha regalato delle pagine cui ho aggiunto a quello che io già avevo scritto su Marcello Cagna. Perché Marcello Cagna? Perché ogni volta che andavo in casa sua e mi sedevo sulla poltrona mi diceva ogni volta, lì si sedeva Marcello Cagna. E allora io, incuriosito, avevo chiesto, chi è questo personaggio? Anche qui, dio incidenza, sono andato a finire poi a essere responsabile della parrocchia dove è sepolto Marcello Cagna, che è venerabile e di cui ha aperto il processo di canonizzazione. Ecco, per dire, Giorgio Torelli mi ha aperto anche la strada verso nuove figure di santità. E poi torneremo a collegarci con te, Don Samuele, prossimamente per parlare di questo libro, ma anche di un libro che è dedicato a Bud Spencer perché ci siamo conosciuti tramite il libro che è dedicato a Terence Hill quindi per par condicio dobbiamo presentare anche il libro di Bud Spencer. Però vogliamo concludere, caro Don Samuele, con questo video Whatsapp che ci hai inviato tu, in cui appunto si parla, c'è Giorgio Torelli in poltrona che legge una dedica speciale. Vediamolo insieme, ascoltiamolo soprattutto. Don Samuele, con appassionato e brillante uso di penna dedico non solo le pagine ma anche la devozione per la sua consagrata fraternità offerta anche a noi Torelli di antica parmigianità. Non farò in tempo a vederlo, Episcopo, ma così sarà perché sì. Con un abbraccio alla fatta del virus, Giorgio. Che cosa vuoi aggiungere Don Samuele? Guarda, noi iniziavamo, quando io andavo in casa, la prima cosa che facevamo era ricevere l'Eucarestia. Lui Giorgio, sua moglie, se c'erano i figli e se c'era anche la curatrice del volume Maria Barbieri, anche lei. Ecco, per dire come iniziavamo il nostro stare insieme. La grande devozione di Giorgio, di sua moglie, sono tutte e due in cielo adesso, Giorgio da un anno. E questo dice la grandezza e poi la simpatia. Perché sì, perché doveva andare così secondo lui. Io dal cielo lo ringrazio. Grazie, grazie. Allora, Don Samuele, grazie davvero di cuore. Torneremo per presentare gli altri tuoi libri, ma soprattutto perché è un piacere essere in collegamento, chiacchierare con te e imparare ogni volta delle cose nuove e interessanti, come appunto l'intervista. Per fare una buona intervista ci vogliono tre ore. Noi non ci abbiamo messo tre ore, appena una decina di minuti, però insomma speriamo, Giorgio Torelli, non ce ne voglia, insomma, di essere stati efficaci lo stesso. Grazie, ciao Don Samuele. Grazie, grazie. Ciao. Grazie.